Giorni importanti per la Fiorentina che è in ritiro a Moena, di oggi la notizia dell'infortunio di Jovetic, il ragazzo ha fatto una risonanza magnetica che ha escluso gravi problemi muscolari. Certo che questo disagio per il ragazzo in questo momento non ci voleva, visto che Jovetic è al centro di numerose voci di mercato anche oggi e l'interessamento della Juventus viene confermato in modo massiccio. La Fiorentina è un cantiere aperto, tant'è che oggi stesso Quadrado ha svolto una prima parte di visite mediche a Careggi, mentre per domani si spera che sia la volta di Emiliano Viviano. La Fiorentina troverebbe così un centrocampista di grande classe e prospettiva a centrocampo, a mezzo al campo e troverebbe soprattutto una sicurezza tra i pali. Il resto del mercato della Fiorentina è ancora molto in fase di preparazione e siamo sicuri, comunque la speranza dei tifosi è che per ferragosto il volto definitivo della squadra sia delineato anche per permettere a Montella di cominciare a organizzare un'ipotesi di gioco per il prossimo anno.